L'Alta Padovana ha avuto un altro pomeriggio di apprensione perché il Muson improvvisamente è andato in piena. Un sospiro di sollievo dopo la grande paura della notte tra l'8 e il 9 giugno, quando il Muson aveva rischiato di esondare e per sicurezza era stata chiusa per alcune ore la strada regionale 307, la vecchia statale del Santo. Un torrente che cresce in fretta raccoglie l'acqua della Pedemontana, arrivando a minacciare i centri di Loreggia e Campo San Piero e gli altri comuni dell'Asta. Abbiamo raggiunto una piena di 2,70 ieri a Castelfranco ed era tutta l'acqua della bomba d'acqua che è caduta e ha provocato tanti danni anche nella Pedemontana. Ci stiamo abituando purtroppo. La soluzione attesa è rappresentata dalla vasca di laminazione da completare nel comune di Fonte. Ancora oggi non sappiamo i tempi della sua realizzazione. I fondi sono stati stanziati, i lavori anche in parte cominciati dalla regione. Però dobbiamo chiudere questo problema perché di bombe d'acqua oggi non possiamo parlare di eccezionalità. Le bombe d'acqua oggi sono l'ordinario. E allora dobbiamo adattare le nostre misure e le nostre scelte politiche a questo nuovo fenomeno che è ordinario e non più straordinario. Grazie. Grazie.